ciao a tutti bentornati a entroterra condivide intanto grazie a tutte le persone che sono iscritte al nostro canale entroterra oggi vorremmo farvi vedere il nostro progetto più in grande scala proprio in grande grande scala dall'alto e anche tutta la storia passo dopo passo come siamo arrivati qui oggi a coltivare i nostri ortaggi quindi dall'inizio all'inizio abbiamo preso il terreno in gestione nel gennaio 2018 e ci ha dato un comodato di uso gratuito un nostro amico e una famiglia del paese qui di Santorso, i nostri conoscenti e noi come cooperativa cooperativa di entropia abbiamo deciso di far partire questo progetto agricolo con la possibilità di inserire persone con un disagio psichiatrico e anche ragazzi richiedenti esilo politico dentro di un percorso di integrazione sociale prima di tutto ma anche lavorativa continuiamo circa 15 mila metri di superficie quindi un metro e mezzo l'esposizione è nord sud e le nostre aiole permanenti le abbiamo fatti est ovest e questo dà un'ottima possibilità di esposizione solare il terreno è praticamente pianeggiante con una lieve inclinazione verso sud siamo proprio alle alle falde del monte summano a santorso il comune di santorso e in più cosa fondamentale abbiamo l'acqua il torrente timonchio che porta acqua praticamente tutto l'anno quindi nel momento in cui abbiamo preso il terreno in gestione era completamente fratto la parte di qua era fratto artemisia e sorghetta e la parte più a nord invece era un roveto tutti i rovi e qualche acacia che era cresciuta e nell'arco degli anni e quindi abbiamo proprio bonificato trinciato tutto siamo entrati anche poi con uno scavatore abbiamo estirpato tutte le radiciotte e i ceppi fin dall'inizio a marzo 2018 abbiamo scelto di utilizzare un irrigazione a goccia per minimizzare l'utilizzo d'acqua ed evitare problematiche di malattie nei nostri dettagli peschiamo l'acqua direttamente dal timonchio con una pompa a scoppio a pressione va nel nostro tubo di testata e dal tubo di testata andrà tutte le nostre manichette autogonfianti inizialmente abbiamo coltivato la parte più a sud e con un orto estivo quindi abbiamo trapiantato verso fine marzo il primo ortaggio a foglia quindi per gli stenti dietro le cicorie e catalogne e radicchio insalate e lattughe così via per poi fare un orto estivo di solanacei quindi pomodoro e peperoni melanzane abbiamo coltivato le patate primo anno in questa parte centrale primavera del 2018 quella parte più a nord l'abbiamo semplicemente bonificata quindi tolto i rovi tolti i ceppi e abbiamo fatto una ripuntatura con un trattore bello grosso per poi renderla produttiva da metà estate quindi luglio in cui abbiamo iniziato i primi trapianti nella parte a nord di brassicacee quindi broccoli versi e cavoli fiori e tutto l'orto invernale. Vicino all'entrata abbiamo fatto un punto lavaggio e un punto incassettamento in cui portiamo tutti gli ortaggi lì e prepariamo per la vendita ai nostri mercati oppure nell'incassettamento per la nostra consegna settimanale alla CSA e invece tutti gli attrezzi e le cose che abbiamo bisogno più al momento quindi di prendere velocemente le diamo nella parte centrale quindi per evitare spostamenti e minimizzare i movimenti. Abbiamo mantenuto la cappettagna quindi la stradina dove possiamo passare all'entrata e che taglia fino a metà del campo primavera 2019 nella parte sud la prima parte a riposo poi abbiamo seminato dei piselli e c'era la parte delle fragole che avevamo trapiantato l'agosto dell'anno precedente. Nella parte nord invece abbiamo trapiantato cucurbitacee quindi zucchine, zucche, porri e abbiamo costruito la prima serra. Nella serra abbiamo coltivato pomodori, peperoni, melanzane sotto copertura. Autunno-inverno 2019 nella parte più a sud finocchi, radicchi, frassiche poi ancora degli altri radicchi e poi c'è la parte delle fragole. Nella parte sud abbiamo anche allestito la nostra camera di bianchimento e abbiamo iniziato appunto a fare i primi video da qualche mese fa. Se vi interessa guardate il video, trovate il link. Invece nella parte nord abbiamo adibito un'area alle guminose, un'altra area era l'iliacee quindi i nostri porri e l'ultima parte l'abbiamo lasciata a riposo. Nella parte più a nord abbiamo adibito un'area dove sperimenteremo la coltivazione di piante perenni sia aromatiche, medicinali e sia per la produzione di biomasse. Primavera 2020, eccoci qua. In questo momento la parte più a sud è a riposo e andremo a trapiantarci delle coporbitacee. Nella parte centrale abbiamo degli ortaggi a foglia. Staremmo trapiantando a breve gli ortaggi primaverili a foglia. Nella parte dove abbiamo fatto appunto il video di come gestire l'orto invernale. A breve andremo a aggiungere uno strato di compost e trapiantare semplicemente, senza lavorare nuovamente il suolo, gli ortaggi a foglia primaverili. Nella parte nord invece abbiamo appena concluso la costruzione e il montaggio delle nostre serre. Sono circa 1260 metri collegati di serre. Abbiamo filmato tutto e il prossimo video sarà proprio sul montaggio serre, tra gioie e dolori e difficoltà che abbiamo avuto, ma ce l'abbiamo fatta. Sotto le serre andremo a coltivare durante la primavera estate una serra completamente adibita a miranzane, una a zucchine, una a peperoni e una a pomodori. Provando diverse varietà. Poi c'è l'aglio, i piselli. Abbiamo fatto un paio di semi e di carote già, quindi quest'anno il focus è far delle carote decenti. Anzi, buonissime. Nella sera che avevamo montato l'anno scorso abbiamo fatto una semina a dicembre di piselli che ora sono in buon sviluppo. Poi ci sono i porri che stiamo raccogliendo. E poi c'è tutta la parte più a nord che ancora riposa e quest'anno vorremmo trapiantare delle angurie. Questa è la storia del nostro progetto fin qui. Mettete un like se vi piace Entroterra Condivide, iscrivetevi al canale, condividete e passate a trovarci in campo. Non passate a trovarci in campo. Condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale così noi ci gasiamo, facciamo altri video e anche per continuare la nostra amicizia cibernetta. E soprattutto se passate di qua non suonate perché quante quelli che sono poi noi ci vediamo ogni volta e ci distraiamo e magari trapiantiamo le inserate obbligo.